buonasera a tutti amici azzurri è sempre forza la prova io sempre e comunque è dovunque perché tutto resta in buonezza prima della partita vi devo dire una cosa importantissima prova vi giuro stongo ancora arrivi perché non ci posso rire la verità un mio amico di nomello faccio il nome e lo saluto mi aveva scritto sul mio mi aveva citato su un commento e mi aveva detto una cosa voglio io sono andato a verificare voglio quello vero non ci posso credere quello vero e potono ricevere la combinazione e coincidenza no quello vero ma giustamente sta dicendo sì ma che cosa vuoi dire andate su google maps però ci dovete andare voglio perché è importante è troppo importante quando hai visto non ce la faccio più a rire non ce la faccio più a rire ma giustamente sta dicendo sempre allora andate su google maps e scrivete sulla ricerca quando esce la cartina scrivete torino dovete scrivere torino schiacciate la lente di ingrandimento diciamo la ricerca scusate schiacciate ed esce la mappa torino poi dopo dopo la mappa torino scrivete proprio così voglio non sto pazziato dopo che è uscita la mappa torino scrivete vai a cagare proprio così cagare va cagà come si dice andato però scrivete vai a cagare cosa consiglio oggi guardate guardate quale ed Hahahahaha voglio giustamente vi giuro ti giuro suике ero poco muroile voglio esce rubendo il stadio voglio hai una cosa incredibile esce rubendo il stadio troppo bello ragazzi lo dovete fare dovete sto prendendo G, vi giuro su D, io ho fatto su Google Maps Torino, lente per la ricerca schiaccia, esce Torino, esce proprio la map di Torino, dopo in quella ricerca là scrivete vai a cagare, voglio esce Rubentus Stadion, niente di meno da pure Google Maps, sapi che la chi la non c'è, ma non voglio troppo bello, troppo bello anche in internet e sull'Maps a io fa cagare, questo è fatto, voglio io vi saluto e ci sentiamo dopo la partita, qualsiasi sia il risultato ci sentiamo dopo la partita, stasera un mio pronostico, a io a voi di che fa, ma asfaltare, li dobbiamo asfaltare, ciao a io vi raccomando fate questa ricerca perché la verità è troppo forte, a io fa cagare, ciao a io, sempre forza Napoli, sempre, comunque, dunque perché tutto riesce, è buonezza, e io fa cagare, ciao belli e forza Napoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.